Alta voce, come ho detto anche a qualche genitore che è venuto a parlare, da storia a casa nessuno mi piglia per matto quando uno studia. E' chiaro che, anzi, vedi la vera, la studia. E poi c'è un'altra canzone di battiti, allora c'è un discorso. Capire, tu non puoi. E poi, non la sapevo, nemmeno essa, se in tutte le gire del mondo, da quando avrò la vostra età, vi canta questa canzone, voi nemmeno essa. E' una cosa che si crede. E' una cosa che si crede. Emozione, conosce questa canzone, emozione. Ma è sentito di noi che fa rischi a questa canzone, si chiama emozione. E' una delle più belle canzoni, in assoluto, di lui, ma delle mille, quando sono tante belle, ma proprio della canzone, niente. Allora, vi consiglio andare su internet e vi consiglio scaricare, trovate di sicuro. E' che parte? Figli, le tasse, accendi le tasse e la senti, verrà che ti piace. E' un'altra cosa che si può fare. E' un'altra cosa che si può fare. e allora voi non sapete, Lucio Padilla, Cesare Padilla, Niente, niente. Ma di cosa vivete? Di cosa vivete? Che cazzo? Di cosa va? No, nel motore. più motori che troppo di viola sono contento per voi ma qualche dubbio era possibile la vita si abbassa a loro di donne che è un'altra che è il Presidente è il Presidente per voi è possibile se uno dipende la vita tua è in posta data su tre cose le cose sono pressoché infinite non si fa a tempo a me dispiace e non parte ora qualche anno ma quando ero dalla vostra età fino a ora ho fatto tante di quelle cose diverse ma parte no per i sombrani